ciao amici bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale prima di cominciare come al solito ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video detto questo cominciamo il primo video è stato ripreso da un vigilante durante un controllo di looting nel magazzino di un negozio l'uomo fa una panoramica del magazzino non accorgendosi che in mezzo ad alcune casse riprende qualcosa di spaventoso che sembra nascondersi all'uomo il video è davvero impressionante ma andiamo a guardare il documento nella stanza di un hotel un uomo incomincia a sperimentare alcuni strani fenomeni paranormali tra cui quello di una bottiglia che incomincia a muoversi sul tavolo senza che nessuno la tocchi il video è davvero incredibile ma andiamo a guardare il documento a guardare il documento una telecamera di sicurezza riprende una strana creatura a uscire fuori dal mare la stessa sembra che emetta uno strano suono non so quanto questo filmato possa essere reale ma di certo è davvero incredibile comunque andiamo a guardare il documento la stessa sembrava a uscire fuori dal mare in un'officina un uomo nota una strana ombra passare vicino alla finestra non sapendo di chi fosse va a controllare apre la porta e nota che al di fuori non c'è nessuno il filmato è davvero impressionante ma andiamo a guardare il documento maggiunga che vengas a la oficina e te traes porfa unos poquitos para qui a fuori no? che verga no mames vete a la verga wey no mames no mames appunto sulle scale si materializzino tre strane ombre nere il video è davvero impressionante ma andiamo a guardare il documento hai due wey tre no mames no mames me dio miedo vede uno è un altro si mentre non mi arriva noi per attrazz pulero no 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 mames ah no mames wey si si son e se suon mi chingadera ah si se suon wey vete a la verga mi chingadera mi chingadera mi chingadera mi chingadera eh padre e figlia fanno una passeggiata nel bosco d'un tratto la piccola nota qualcosa tra i cespugli l'uomo tenta di capire chi potrebbe essere a nascondersi dietro quei cespugli e riprende il tutto con la sua telecamera ciò che viene ripreso è davvero impressionante ma andiamo a guardare il documento over where right here hey what are you doing over there what are you doing over there il prossimo video mostra due donne madre e figlia mentre vengono riprese da un loro familiare con un telefono sembra che ad un certo punto alle spalle della ragazza si materializzi la figura di un bambino dopo un paio di secondi possiamo notare che il bambino incomincia a muoversi e sembra che salga le scale la ragazza si sposta ma del bambino sembra non esserci più nessuna traccia il video è davvero impressionante ma andiamo a guardare questo importantissimo documento app like chi mi la vista è giusto äratos chi mi la vista è giusto giusto E anche oggi siamo arrivati al termine ragazzi Il video finisce qui Non dimenticatevi di scrivermi nei commenti Il vostro parere su questi filmati Io vi saluto e come al solito Ci rivediamo alla prossima Ciao Ciao